Dalla regione arriva l'aiuto agli studenti più bisognosi attraverso le risorse Dote Scuola. L'erogazione dei bonus del valore di 200 euro per ogni studente che ne abbia fatto richiesta avverrà a partire dal 7 settembre e saranno spendibili fino al 31 gennaio 2023. Quest'anno in tutta la Lombardia sono quasi 146 mila gli studenti che riceveranno il contributo di 200 euro per l'acquisto di libri e materiali didattici con un aumento di oltre 42 mila domande in più rispetto allo scorso anno. In provincia di Sondrio per l'anno scolastico 2022-2023 sono 1.759 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado inseriti nel decreto approvato dalla regione che quindi beneficeranno del servizio. Le risorse messe a disposizione per la nostra provincia ammontano ad un totale di 351.800 euro nello specifico per quanto riguarda l'erogazione del contributo relativo al materiale didattico i beneficiari in provincia sono 1.544 per un contributo pari a 308.800 euro per le borse di studio statali invece nel territorio sondriese i beneficiari sono 215 per risorse pari a 43.000 euro.